Madonna regà, mamma che vestite a inventà? Oh regà, io sta roba non me la collo. Prego, non potevo far vedere un pezzetto della serie e basta. Che rottura te che... Ciao deficienti! Aspetta, aspetta, forse dobbiamo partire da prima. Ah no, è più aggelato? Sì, sì! Sero, secco, ma non ci credo, secco, non c'è neanche un bombone. Non vuole che mi esprima, è come il padre e il biglietto. Te l'hai indagata sta cosa con un professionista? Oh vedi, più degnitoso così, no? E questo dovevi fa? Che ne so, quella dice fava il lancio... Te prego. Ma io pensavo che... Dai, te stanno a sentire tutti. Ti staccia quello... E questo... E questo... World Cved qua website! Erain! I Julian Wa緊. Uesame! Erain!